elementi musicali fuori dagli schemi come quello dedicato ieri sera al rock dell'Itfiba. È un fatto eccezionale per una cover band esibirsi in un vero teatro, solitamente ingaggiati per feste all'aperto e intrattenimento nei locali notturni, i gruppi che reinterpretano i successi dei VIP della musica internazionale raramente conquistano uno spazio importante nel panorama musicale, ma ci sono le eccezioni, tra queste il ritmo voodoo, gruppo di cinque elementi specializzato nella riproposizione del rock all'italiana dei Litfiba, la storica band fiorentina resa inconfondibile dalla voce graffiata di Piero Pelù. Negli anni la tribute band ha conquistato un pubblico tutto suo, sempre più numeroso, presente anche nella serata speciale organizzata al teatro Camploi di Veronetta per un concerto fuori dagli schemi. I pezzi storici dei Litfiba sono stati per l'occasione riarrangiati con l'aggiunta di 50 musicisti dell'orchestra dei fiati di Suona. Il pubblico della musica leggera non è nuovo, le contaminazioni fra rock e sonorità classiche, il precursore è stato Luciano Ligabue con l'orchestra dell'Arena di Verona, un sodalizio da tutto esaurito nell'anfiteatro romano. L'esibizione dei Ritmo Voodoo si è arrecchita di filmati proiettati sul palcoscenico a raccontare i temi delle canzoni, un lungo lavoro di arrangiamento e preparazione artistica, premiato dalla risposta del pubblico. Grazie!